Ciao amici siamo METTE PIZZE METTE PIZZE E siamo fuori trovati oggi con Favij per una nuova MADE IN Appena usciti dal supermarket Favij non sa che tutto quello che andrà a mangiare oggi è cibo per cani Questo è un video da contenuti forti, tenere lontano dalla portata dei bambini Se lo schifo persiste contattare un medico o un esorcista Ragazzi abbiamo coinvolto Favij a fare sta cosa Quindi quanti ne chiediamo? Quanti? Quanti like? 200 200.000 like! Iniziamo subito la MADE IN PIÙ EPICA DI YOUTUBE IN ITALIA! Cioè io non so perché ho accettato di fare sta roba Non ha senso Tu vedi i nostri video qualcosa? Sì Sai che si chiama sempre MADE IN? Sì, MADE IN non lo sia MADE IN Questa MADE IN Perché questa MADE IN non abbiamo detto in ombra? Abbiamo detto una nuova MADE IN Ma non è MADE IN merda? Non lo so Allora in realtà questa è una fake caponata Sì diciamo che abbiamo preso delle cose un po' esotiche Mi dite cos'è sta MADE IN Poi esotiche diciamo da un po' di partita Allora non pensiamoci più Allora facciamo così Assaggi i primi piatti Devi indovinare di quale MADE IN si tratta Ok sempre se sopravvivo mi fa schifo tutto È difficile aspetta Ho bisogno di una Oh è una caponata Madonna come la puoi È una caponata È una caponata Sì Vai Non ti tirare indietro Hai quasi 4 milioni di iscritti 3 2 1 Lorenzino vai Buon appetito Va Vigè Inizia lui Ma l'hai masticato pezzo di merda Perché così va bene allora no? Non ho sentito niente Buono? Buonissimo Che cosa sapete? Di tutto quello che non mi piace Tipo? Bise Non guardare Non guardare Devo guardare? Puoi guardare No rega Fate schifo Lorenzino appena iniziata Di amministra La MADE IN CIVO PER CARE CHIALEN È tutta così la chialen No diciamo che ci sono cose più belle Perché il cane non mangia solo quello C'è Direi di iniziare con questo Ma perché? Lorenzo apriamo? Apriamo 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 Io devo per forza aprire Mister Stuzzi Matteo inizia Matteo Tu fai sempre No mi hai rotto con gli occhi Inizia Non mi frega niente Ti lo metto io in bocca No Ti lo metto io in bocca Fallo all'ospite Io Com'è? Raga fa schifo Fa veramente Raga fa veramente Un bicchiere Datemi un bicchiere Datemi un bicchiere d'acqua È vuoto Ma basta Fa schifo ragazzi Dammi un bicchiere d'acqua Madonna faceva troppo schifo Venti prendi l'acqua Prendi l'acqua Raga fa veramente Raga Ma proprio schifo faceva Mamma mia Perché cani maggio? Proprio schifo Lami da quel fazzoletto Mamma mia Fammi un fazzoletto MANTE LA PINIA DI PUNCADA FATTELO FATTELO Sei una p***a La p***a Non guardano di p***a Non dire ma no Ci tracchiamo la polizia Non dimetti il bar Oh guarda che mi fai Vai 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 mangia Come si mette lo scuto al dorso Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? E non barare più Non barare più! Mai più! Ok? Mai più! Va bene! Mai più! Ok abbiamo preso dei cereali Da diciamo C'è una parte del mondo Che si chiama Canilandia Dove praticamente Si mangiano dei cereali Un po' strani Ecco Questi sono tipo Sai quelli con il cioccolato dentro? Ok Non ce la posso fare Regà Tu sei la persona Con più iscritti Ma che cazzo Le frega Sei croccantini Li mangia il mio cane Struxie Come si chiama il tuo cane? Struxie Parte No Struxie Bene Lorenzo È arrivato il momento Più di più l'avrebbe fatto Cazzetto Cosa c'è dentro? Ma che cazzo C'è la sabbia dentro? Ma che cos'è? Cosa c'è? Mi chiede un perdono Mi chiede un perdono Non c'è quello che vuoi Mangialo Mangialo Vabbè Mangialo Ok Ma guarda che è la sabbia Cose schifose Perfetto Signori No dai Ma cos'è? Ah Cotechino Che sei buono Raga dovete immaginarmi solo Ah guarda Non è male secondo me Tanto guarda Tanto più schifoso No 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 Ma non sul tavolo Ma il tavolo È come se fosse un piatto grande Ah vedi Ok No raga Cioè No 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 Aspetta Aspetta Tieni Tieni Ho pezzo di merda Apri la bocca 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 Ah Maschica E poi Aspetta Tocca l'oretto Stai mangiando Apri la bocca Mi fa schifo Mi fa schifo All'arropia L'arropia 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 Aspetta No Venti Run Dai Lasendo No non si fanno dai faccio a me dai faccio a me dai addio a me mi fa bene allora ragazzi prossima pietanza ma bj il primo che ha vomitato, biso il secondo manco io che sta succedendo? beh quindi cosa dobbiamo fare? lo buttiamo come fate a mangiarlo con così tanta scioltezza? ma è ma è salato lo butti giù si può masticare, non partire è pervenuto masticalo 47 volte che fa bene e lo digerisci lo faceva schifo no no ma è l'ultimo ma quanto non ti avete? quanto fa alla fine si lava i denti ma come fanno i carini? no raga è impossibile ah sei riuscito come? io ho i denti incredibili hai aperto i carini più lunghi dei vostri? ma è stato bravo ma c'è anche altre cose più lunghi dei vostri? ma questo lo dici tu? ma c'è una penitenza? no no lorenzo devi bere io? io cosa? no gli abbiamo fatto fare questa porcata a Favij facciamola arrivare a 4 milioni di iscritti facciamola arrivare a 4 milioni di iscritti che se li merita Favij fallo per tutte le persone che ti guardano ogni giorno grazie degli iscritti bevo subito grazie io mi allontano aspetta no aspetta un secondo un secondo un secondo ragazzi basta c'è no dai dai devi solo berlo aspetta una salute i cavaliere una salute i cavaliere una salute i cavaliere è quello della lora bene ragazzi questo video finisce qui ragazzi mettete 200 continua per gli iscritti per gli iscritti per gli iscritti ragazzi iscrivetevi ragazzi 200mila like ragazzi in descrizione trovate il video che abbiamo fatto con Lorenzino sul suo canale non farà più video insieme a noi noi vi vogliamo salutare trovate tutti i nostri social in descrizione vi vogliamo super saluto vediamo se Favij secondo me non ci rivolgerà mai più la parola vediamo se Favij se lo ricorda allora 3 2 1 METTEVISE madonna che bravo che sono ciao raga boh chi pulisce BINTO LOREN METTEVISE 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 uè Lorenzuccio uè Zimu come stai? bene te tutto bene eh? sta a posto sta a posto dicami tutto allora per mercoledì tutto confermato no? si si ok e cibo ti va bene tutto? si 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 tranqui magari no no insetti però per il resto ok ok quindi qualsiasi cosa cioè va bene tutto sei sicuro? non sei allergico a niente non sei allergico a niente non sei allergico a niente quindi va bene tutto ok basta che non prendiamo i ragni questa puttanata perché poi alla fine mi pidi delle cose schifose e mi fai mangiare nel video vè? no non è vero non è vero non è mica per quello non so già che cosa no non ti stai va bene dai va bene no da parte cose che ti avevo detto un messaggio tipo ragnettini queste cose no no i ragni non li prendiamo va bene tutto dai ci vediamo mercoledì ci vediamo mercoledì dai ciao Lore ciao 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 ciao